salve a tutti ragazzi oggi vi porterò una partita un po diversa dal solito una partita più scema contro appunto uno scemo qualunque un mio amico che ha un canale youtube in cui diciamo abbiamo fatto un video una delle sue avventure appunto prevedeva che si sfidasse contro di me a dama e appunto qui in questo video vi commenterò la partita giocata nel suo video e diciamo che lui è l'eroe mentre io dovrei essere il cattivo colui che lo dovrebbe fermare queste cose qua insomma quindi diciamo che qua giochiamo questa partita per la salvezza del mondo ecco la partita comincia con la mossa ai neri che in realtà purtroppo in questo programma non posso impostarla questa cosa quindi muoverò con i bianchi le mosse che ha fatto lui che giocherà con i neri e c'è anche un perché su questa mossa specifica che prima muovono i neri ma dovete andarlo a scoprire nel suo video allora l'apertura è questa 10 14 lui mi fa il cambio 23 19 da qui comincia l'apertura cambio 12 15 e qua lui giustamente un principiante esce subito dall'apertura con 27 23 che da un leggerissimo vantaggio al nero la principale normalmente noi sappiamo che 32 28 comunque fa questa che nonostante tutto non è male se si muovono appunto queste mosse qua qui io faccio la forte 5 10 il mio avversario fa 21 17 altra mossa deboluccia che ovviamente si potrebbe anche fare per sorprendere l'avversario con qualche variante strana preparata però non è questo il caso questo è il caso di un principiante che muove le sue prime mosse a dama un principiante che ovviamente prima di arrivare a fare questo video un po di allenamento l'ha fatto infatti non casca diciamo in alcune piccole trappole come potete vedere e qua io ho mantenuto questo triangolo molto forte mentre la sua posizione è più scoordinata quindi diciamo facilmente nel caso suo è facile sbagliare mentre nel caso mio basta che muovo la 1 nella 5 5 10 diciamo che ho sempre una struttura solida forte e una posizione difficile da sbagliare mentre lui potrebbe fare un errore da un momento all'altro adesso io faccio l'1 5 come da programma lui fa 29 25 altra mossa debole 5 10 adesso la mossa consigliata per lui è la 26 22 per difendere questo punto dove sto per fare un tiro addirittura a 3 lui sbaglia fa 26 21 e da qui io gli dico sul video ho un pezzo in più ed è qua il bianco a partita persa come vediamo dal video qualunque giocatore esperto da questa posizione avrebbe gettato la spugna però qui stiamo parlando di un giocatore più che altro di un eroe che deve salvare il mondo e deve dare il tutto per tutto quindi continua a giocare 23 19 io vado verso la damatura lui mi dà questo cambio io tranquillamente damo faccio dama e lui mi dà questo cambio ora lui spera di appunto portare a meno un pezzo a dama e cercare appunto di vincere la partita ah scusate prima fa 32 28 9 13 e poi dopo 19 14 per appunto andare verso la damatura ora io avanzo con la dama lui avanza in queste pedine non sapendo che fare qui e io gli do una chance con 3 6 questa è una mossa molto debole che fa scendere di tantissimo il vantaggio del nero però il nero ha sempre un pezzo in più quindi diciamo che è comunque partita vinta anche se il bianco fa dama il nero ha un pezzo in più ha la dama che può diciamo andare o bloccare la 30 o la 25 più questo pezzo che sta andando verso la damatura tranquillamente quindi diciamo che la posizione è sempre vincente lui appunto si accorge di questa occasione la sfrutta e io gli lascio il pezzo faccio 13 18 dico questo è un regalo forse ho capito il tuo giochetto ti prendi gioco di me perché pensi di aver vinto ed è per questo che stai sbagliando quello è un regalo quello è un regalone ora la partita diciamo che è messa sempre a vantaggio del nero però il nero deve giocare bene per mantenere appunto questo vantaggio che da qui è difficile da vedere basta appunto una mossa sbagliata e il bianco trova la pari tranquillamente quindi il bianco adesso ha un'occasione per il pareggio 26 22 per me lui fa 3 7 probabilmente con l'idea di mettere in gioco la dama e io faccio questa 2 6 diciamo che lo invito ad attaccare ovviamente qui se lui faceva qualche altra mossa tipo questa io facevo 2 6 poi avrei vinto la partita comunque lui fa 3 7 è proprio distinto senza pensare a questa trappola e io faccio 2 6 ovviamente se lui attacca succede la stessa cosa faccio una mossa di attesa lui prende cambio e poi qua bisogna gestirla bene per vincere la partita però per qualche strano intuito da eroe non va ad attaccare il pezzo come vediamo dal video se provo a mangiarti adesso la mia strategia verrà bloccata infatti per questo che farò questa mossa è davvero astuto stai parlando con un scemo qualunque ma non sono un ingenuo comunque qua diciamo che la partita è portata a completa parità perché qui il bianco gli passa attaccare da questo lato qua il nero non può spingere da qui perché poi si ritroverebbe diciamo con il bianco che cattura questo pezzo che blocca quest'altro quindi deve per forza accettare un cambio un cambio ecco ma la posizione sarebbe pari ovviamente lui non trova la mossa giusta e fa 7-12 che comunque nonostante tutto è ancora una posizione di pari ora io gli faccio 6-11 lo invito ad attaccarmi volevo fare questo dare una piccola speranza con il 3 contro 2 ma anche questo diciamo che porta la partita diciamo cioè in questo caso è proprio è il bianco che sta prendendo vantaggio con 12-15 il nero diciamo è costretto a fare questo cambio e diciamo posizione qui è pari comunque il bianco si salva del tutto qua però finalmente arriva il vero errore da principiante però è un errore intelligente come andiamo a vedere dal video pensavo ti farsi alla prima no io mangio il tutto sempre ecco come avete visto mi dà un pezzo qui non c'è niente che può bloccare lui diciamo che è stata anche una mossa intelligente perché se la 4 era in 8 lui mi dava questo cambio e avrebbe completamente mi avrebbe completamente distrutto avrebbe vinto la partita anche a occhi chiusi però diciamo che ha avuto questa leggera svista ovviamente io ho vinto e la partita continua ancora con altre piccole mosse ecco questo qui e poi diciamo che qua diciamo che io vinco però lui è un eroe e deve trovare un modo per vincere anche da una posizione così diciamo disastrosa ma per scoprirlo dovete andare a vedere nel suo video e va bene grazie a tutti per la visione questa diciamo che è una partita più per principianti per diciamo anche sponsorizzare il suo canale oltre che lui sponsorizza il mio è giusto diciamo una cosa così tanto per divertirci un po' vi ringrazio come sempre per le visualizzazioni per le vostre iscrizioni e ovviamente se diciamo siamo arrivati a 80 se arriviamo a 100 mi invento qualcosa e faremo una piccola un po' un festeggiamento del traguardo perché sinceramente non mi aspettavo tutto questo seguito vi ringrazio e alla prossima ragazzi grazie grazie a tutti Grazie.